Se ne parla tanto, talvolta anche in maniera errata. Allora, professor Parruti, ancora chiarezza. Questione vaccinazione eterologa. Cosa si può dire che sia una parola quasi definitiva? Per fortuna è giunta la pronuncia del Comitato Scientifico Nazionale e dell'AIFA che hanno chiarito molta della incertezza che poteva esserci. I dati scientifici che si sono accumulati dicono che il vaccino ad RNA, quindi Pfizer o Moderna, può essere benissimo utilizzato dopo una prima dose fatta con un vaccino adenovirale senza che assolutamente si perda in potenza. Quello che aveva lasciato inizialmente perplessi è il fatto che quando si somministra la seconda dose con il vaccino ad RNA, può succedere che si verifichi un corteo di sintomi, febbre, malessere, stato di prostrazione per un paio di giorni, un po' più importante, che è noto negli studi registrativi del vaccino ad RNA. Quindi fondamentalmente l'unico svantaggio, essendo quello che magari nell'immediato c'è qualche fastidio in più, in realtà il vantaggio grosso che si ha in questa vaccinazione eterologa e che è più potente l'effetto della vaccinazione. Tante perplessità anche su Johnson & Johnson, al punto che gli Open Day, gli Open Week, Johnson & Johnson non sembra siano stati un grande successo. Il Johnson & Johnson è un ottimo vaccino. Noi adesso sappiamo che cosa dobbiamo fare per la gestione di quella rarissima complicanza che riguarda all'incirca una persona ogni 100-120 mila vaccinati, che può innescare una piastrinopenia e quindi un rischio di trombosi dopo la vaccinazione. Sappiamo che fare nel senso che sono tutte situazioni cliniche che si manifestano, cioè non possono essere asintomatiche. Si associano a cefalea, a segni come macchie sulla pelle, persistere della febbre, persistere del malessere. Ora, chiunque abbia in questa, ripeto, rarissima aspettativa di negatività dei sintomi che persistono dopo quattro giorni, può immediatamente rivolgersi al Servizio Sanitario Nazionale e noi sappiamo cosa dobbiamo fare. Non è troppo tardi quattro giorni? No, assolutamente, perché siccome le manifestazioni arrivano dopo 11, 12, 14 giorni, se noi ci muoviamo dopo quattro o cinque giorni, sappiamo tutto quello che dobbiamo fare e possiamo minimizzare il rischio in maniera totale. E le donne in gravidanza, è consigliabile il vaccino o è meglio aspettare? C'è uno studio fatto dalle società scientifiche che in via di massima non controindicano, è perché questa è una cosa molto giusta, cioè non c'è nessuna ragione sostanzialmente che a priori faccio ritenere che un vaccino ad RNA durante la gravidanza possa essere particolarmente pericoloso. Detto questo, a pochi giorni fa è stato pubblicato un primo studio scientifico fatto su un numero importante, stiamo parlando quasi 300.000 gravidanze seguite in giro per il mondo ed è stato trovato un risultato da interpretare con una certa cautela, cioè un certo numero in più di aborti che non è facile interpretare chiaramente, se come secondari o come semplicemente legati all'osservazione di un così alto numero di persone. Quindi io rimango di quest'idea. La donna in gravidanza non ha un grosso rischio di sviluppare una malattia grave, perché è giovane, perché fondamentalmente ha una condizione di immunoprotezione naturale gravidica che la protegge. Per cui posticipare alla fine della gravidanza la vaccinazione delle gravide io credo che sia un ragionamento molto prudente per il momento.